Salva la tua lingua locale Pillole di dialetto Il dialetto siciliano, patrimonio dell'UNESCO, porta in sé l'identità di un popolo, cultura, storia e tradizione, patrimonio immateriale da preservare con orgoglio e tramandare alle giovani generazioni. Vi aspettiamo per la sesta edizione di Salva la tua lingua locale Pillole di dialetto A Santa Margherita di Belice Domenica 20 agosto, ore 19 e 30 presso la Biblioteca Belluno